La posizione è regolare La rapidità straordinaria di Barreto Sul lancio in profondità Porta avanti il Bari La rapidità straordinaria di Barreto La bambina 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 Il gol che desiderava, perspetto l'assist verticale, ancora una volta disattenta alla difesa dell'Udinese, se non sbaglio con coda, veramente disattenta, ci ha fatto trovare fuori tempo e poi Barretta ha battuto zappato sullo... Il gol s'apprende per Barretta... Conte un retorno... Comanzuri, la palla resta lì, attenzione Barretta... Prova! Nel mare in vantaggio! Una trentanovesimo del primo tempo, azione un po' caotica, molto bella con Zorri Barretta... E' arrivata la palla a Barretta, è stato bravissimo, vantaggiata, fin di trasmesso, assolutamente, assolutamente imparabile per Colombo. Parte Barretta! Tre a due pari! Parte Barretta! Parte Barretta! Parte Barretta! Parte Barretta! Conte un'unice al dià! Ore... Parte Barretta! Tre a due pari! Tre a due pari! Tre penda! Tre a due pari! Tre a due pari! Grazie a tutti. Grazie a tutti.